Salve gente, sono Larus, eccomi qui su Attila Total War. Nell'ultima puntata abbiamo razziato questa zona qui, che era Augusta Vindelicorum, e abbiamo anche preso Genova rapidamente. Facendo così, i Quadi ci odiano un pochino. Ci sono anche gli Alemandi in guerra contro noi, e anche dei ribelli germani. La situazione non è tra le migliori, però abbiamo tutte le armate dei Quadi in questa zona, noi possiamo difenderci contro i Quadi, i Quadi non tengono troppe armate, cioè armate troppo specializzate. Hanno armate principalmente formate da lanceri. Questo è un vantaggio per me, perché io tengo delle ottime unità di spadaccini. Consideriamo i mercenari con falce, o qui i disertori, i palatini. Siamo messi molto bene sotto questo punto di vista. E il modo migliore per affrontare queste grandi armate di lanceri è attraverso un campo di battaglia abbastanza piccolo, ovvero una città. Virunum può essere la città che fa il caso nostro. Quindi vediamo se i nostri avversari ci attaccheranno a Virunum, oppure se riusciremo a difenderci in qualche altra zona. Molti di voi mi hanno chiesto di aumentare la dimensione delle mie armate. Si potrebbe fare, ma non voglio spendere troppi soldi. E devo ancora vedere se... Mi conviene fare ciò. Più che altro, una cosa che credo sia abbastanza utile, è spostare... Ah, forse no. Stavo pensando di spostare questa armata qui a Verona. Però qua c'è ancora l'armata di questi nomadi, che non è ancora tempo allora di spostarci. Vediamo un po' come sono questi spadaccini nobili. Hanno buona armatura, sì, direi che posso metterli senza dubbio. Vediamo un po' di spadaccini nobili in questa armata, che servono. Anzi, invece che mettere spadaccini, che vedo che ci sono già disertori goti, conviene mettere un po' di arcieri, assieme a qualche un agro. Perfetto. Potrei anche fare una co... Anzi... Potrei fare una cosa molto più utile. Siccome quella lì è la linea praticamente del fronte... Invertire armate. Mettere questa armata qui a difendere Genova. E questa armata qui a difendere Mediolanum, che Mediolanum è più a rischio rispetto alle altre città. Perché se scende questa armata al nord è un bel problema. Verona è abbastanza messa al sicuro. Ovviamente c'è questo passo qui da cui possono arrivare un po' di armate. Solo che è abbastanza lungo come passo. E di sicuro in un turno non riescono a farla, a meno che vanno in modalità marcia forzata. Se vanno in modalità marcia forzata, ovviamente ci sarà un problema perché posso fare un'imboscata contro i loro. E in ogni caso vinco io. Dunque, ricapitolando la situazione sotto controllo. Più passa il tempo più ho l'opportunità di rafforzarmi e di vincere questo scontro contro i quadri. Non so se voglio espandermi direttamente nelle terre della Pannonia, sebbene siano molto fertili. Però di sicuro Shisha, che è in Dalmazia, la posso prendere. Che così comunque controllo sempre più territori in Dalmazia. E anche forse Savaria. Ma perché ha le pellicce? Vedremo successivamente. Facciamo turno successivo. Dunque, credo che sia ora di mettere fine alla guerra contro i Romani. Ci offro un po' di soldi, però io richiedo un po' di più. Così va più che bene. Sì. Sì, ottimo. Sono ancora in guerra contro i Bizantini. Il che non è una grandissima cosa. I Bizantini sono un avversario piuttosto formidabile. Dovremmo fare attenzione. L'ho mandato, effettivamente. Le forze dei separatisti germanici ci stanno attaccando. Purtroppo ho fatto un errore tremendo da parte mia. Ho messo l'armata in mare. È un errore che si fa ogni tanto. L'ho messa al porto invece che direttamente sulle sponde. E dobbiamo fare attenzione a questa cosa. Ok. Guardate che bella comunque è questa città. Genova, sì. Bella dal punto di vista germanico. Con questa casa del signore che si affaccia sul mare della Liguria. Bellissima, bellissima. Un saluto a tutti i genovesi che stanno vedendo questo video. Dunque. Io non capisco perché le mie truppe prendono mal di mare stando nel porto. Io non capisco nemmeno perché le mie truppe stanno nel porto. Cioè, se io metto un'armata dentro una città, deve essere per forza come guarnigione. Se metto una flotta dentro una città, mica deve essere assolutamente dentro la piazza. Deve essere nel porto. Il porto è per quelli che vanno in mare. Le mie truppe non vanno in mare. Non capisco questa cosa qui. Non capisco l'opportunità di mettere le truppe di terra come... Messa al porto. Cioè, non ha assolutamente senso. Vabbè. Lasciando stare... Le cose che non capisco di questo gioco. Schiariamo la nostra armata. Oltretutto non capisco nemmeno... Perché le mie truppe, in primo luogo, hanno il mar di mare. Cosa hanno fatto in mare? Cioè, state in porto. Non hanno fatto nulla. E oltretutto, secondo me, le truppe, anche se fossero attaccate, queste truppe, da via mare, dovrebbero partire con le navi al porto e poi, a inizio della battaglia, e tu le devi togliere dal porto e mandarle via. Non direttamente in mare. Però, cose che comunque sono utili al gioco. Non capisco perché succede questo. Dunque, voglio difendermi principalmente sulla punta della mappa. Quindi tutte le mie truppe le voglio schierate qua sopra. Così ho anche più tempo di riformarmi. Dunque, dunque, dunque. Qui, metto un po' di arcieri qua sopra. E le mie altre unità le metterò in questa zona. Il nemico mi attaccherà principalmente a questa zona e... Qua ci sono le mie torri che riusciranno a fare un po' di danni al nemico. Sono fiducioso nei confronti delle mie truppe. Le probabilità sono contro di noi. Siamo in inferiorità numerica. Non importa. Ce la faremo. Sono fiducioso. Qua è uno nagro? Sicuro che sia uno nagro? Eh sì, è proprio una liburna. Da tiro. A me piacciono molto le navi su Attila Total War. Veramente. Forse sono la mia cosa preferita di questo gioco. Le navi sono fatte con un dettaglio estremo. Mi piacciono da impazzire. Seriamente. Soprattutto quelle di tipo romano. Guardate che belle che sono. Poi comunque era necessario ampliare il roster navale. Considerando che... I vandali e i romani... Hanno avuto un po' di... Scorribande navali. Intanto. Qui... Ho delle unità di lancieri. Che possono essere posizionate qui. Qua c'è delle unità di legione. E qua delle unità di cavalleria. La cavalleria preferisco metterla più che altra in questa zona. Facevo fuoco sui cavalieri. Se è possibile. O su qualsiasi cosa che sia piuttosto vicina. Per fare fuoco manuale con le navi. Per chiunque se lo stesse chiedendo. Bisogna fare... Premere il tasto INS una volta che... Avete selezionato l'unità. Siccome molti me l'hanno chiesto nella... Scorsa puntata. Forse ci conviene spostare la nostra nave. D'artiglieria in questa zona. Ok. Stanno arrivando... L'unità di cavalleria del nemico... Di corsa. Vedremo un po' se riusciremo a resistere contro l'impeto del nemico. Il generale va posizionato assolutamente dietro. Voi sbarcate in qualche punto se potete. Ok. Qua ci sono le unità d'elite. È la mia formazione. E qui sta attaccando la cavalleria. Dobbiamo spostare le nostre truppe in quella zona. Perché non so se riusciranno a resistere a lungo. Anche i nostri picchieri sono... Dovono essere abbastanza decisivi. Nell'attacco. Ok. Rimettetevi in formazione. Voi altri. E ok. Intanto qui c'è la cavalleria che sta subendo attacchi. Attacchi dai miei arcieri. Perfetto. Guardate che bella vista. Io ormai sono... Ho affezionato le viste di battaglia. Bellissimo. Attila da queste... Questi scorci che sono... Bellissimi, tremendi. Con un livello di dettaglio che... È enorme. I nostri uomini sono disperati. E se la stanno dando a capa. Ok. Qua abbiamo perso un po' di truppe. Però ci sono i nostri... Picchieri che possono... Difendere la posizione senza dubbio. Fate il muro di picche. Perché non voglio fare l'errore... Di un paio di puntate fa. Tocci qua intanto con... Altre... Unità di lanceri comitatensi. Dovranno difendere questa posizione. Dunque qua... Le mie truppe... Possono mettersi qui. E qua c'è il mio generale... Che è sotto attacco purtroppo. Dunque. C'ho degli arcieri anche qui... In questa posizione. Sono un po' a rischio però... Vedrò che cosa fare. Fate... Una formazione difensiva qui. Le unità nemiche si sono radunate e stanno tornando in battaglia. Qua stanno facendo comunque un po' di tiro. Di distanza. Dobbiamo fare comunque attenzione a questa... Questa piccola cosa. Piccola non è... Alla fine è fin troppo piccola. È abbastanza importante. Dunque... Qui ci sono i nostri picchieri... In difesa. E stanno bersagliando i nostri... Disertori palatini. Vediamo se riusciamo ad attaccare... Gli onagri del nemico con la nostra cavalleria. E qua... Bene. Ci sono le nostre altre unità. Che stanno facendo fuoco. Il generale fate fuoco su questa... Ok. Ok, stanno beccando il generale. Perfetto. L'unica cosa che... Dobbiamo fare molta attenzione anche qui. Che stanno attaccando le nostre barricate. Quindi... Arretriamo un attimo. E mettiamo... Delle nostre unità. Che possono difendere... Le nostre barricate. Non sopra le barricate. Perché ovviamente le barricate crollano. E crollano... I nostri uomini assieme a loro. E ok. Col nostro... Un agro. Facciamo fuoco alle picche germaniche. Oh merda. La cavalleria me la sono... Totalmente scordata. Faccio troppi errori negli ultimi video. Sono troppo distratto. Troppo distratto. Non va. Dobbiamo anche fare attenzione a non far bruciare la nostra città. E qua... I nostri picchieri dovranno difendere la posizione. Sarà un compito... Piuttosto importante però... Sono fiducioso. Ok. Qua ci sono i nostri... Guerrieri che... Si stanno difendendo. Qua i nostri picchieri anche. Perfetto. Qua stiamo difendendo la posizione. Contro l'attacco delle... Truppe del nemico. Non so per quanto riusciremo a resistere. Però... Spero in bene. Spero in bene. Del nostro leader. Noi stiamo bruciando la nostra città. A caso. Intanto. E qui... Facciamo una piccola opera di accerchiamento. Qua hanno preso anche... La posizione con le torri. Allora... Allora... Scrubber's ready. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che subiettacolo vergognoso. We'll kill them all. We'll kill them all. No ball. Ok. Qui possiamo attaccare alle spalle del nemico. E qua stiamo anche sfondando un po' il centro. Possiamo puntare un contrattacco adesso. Ok. Perfetto. Il nemico si sta ritirando. Il nemico si sta ritirando. Il che è una grandissima cosa. Dobbiamo fare però attenzione sempre in tutti i lati. Perché la vittoria non è ancora arrivata. Sebbene... Sia tremendamente vicino a noi. Ne attacchiamo le spalle questi... Picchieri. Facciamo anche attenzione. Non spostiamo troppo le nostre truppe a caso nella mappa. Stiamo comunque concentrati in un certo senso. Nel... Nel focus della nostra battaglia. Pintosto mandiamo le truppe un po' più ridicole. A dare supporto in varie zone. Queste truppe qui... Devono attaccare gli arcieri. E comunque farli andare via dallo scontro. Ok. No. Che fate? Non fate nulla adesso. Basta, 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 basta. Il fuoco amico è veramente una cosa un po' tremenda da tenere sotto controllo. Sbettetela! Oddio, santo! Stanno ammazzando tutti. I nostri uomini. Dannazione! Ma addio mio. Ecco cosa succede. Non mi ha a fare molta attenzione. Il fuoco amico è tremendo. Ok, intanto però sono fiducioso che se riusciamo a uccidere il generale... Perfetto. Uccidendo il generale la battaglia dovrebbe passare... Dalla nostra parte, al nostro favore. Il nostro generale è ancora vivo. Non so per quanto, però è ancora vivo. Noi mandiamo l'attacco a questi mercenari. Piccoli. Fate tiro assordante. E andiamo ad attaccare questa unità... Da corpo a corpo, cioè da distanza, col corpo a porco. E purtroppo il nostro generale è morto. E abbiamo preso questa battaglia qui per quel colpo che abbiamo tirato qui. Che è effettivamente ucciso un po' di truppe. È stato un errore da parte mia, trevendo. Una sconfitta onorevole. Una sconfitta causata nei miei errori, principalmente. E vediamo se il nemico... Voglio fare qualcosa. Mi sa che è solo razziato la città. E i vandali sono stati distrutti. Abbiamo perso anche un po' di cose. È stato razziato il nostro insediamento. E abbiamo perso il re? Oh no. Mi stavo spaventando. Abbiamo perso in un altro re. No, no, no. Tutto a posto, tutto tranquillo. L'unica cosa che devo fare adesso... È riattaccare questa armata. E attaccare una volta per tutte e distruggerli. Ovviamente non hanno speranze. Vado e li ammazzo subito. Ok, ammazziamo tutti. Non voglio più sentire parlare dei separatisti dell'Ovest. Ok, qui dobbiamo riparare un po' la città. Ripariamo. Madonna, quanto mi costa riparare. E questa armata qui deve essere aumentata adesso di grado. Dunque. Epico seguito dell'armata. Si può fare. Si potrebbe anche fare... Temutimi i tori. Oppure... Posso fare epico seguito dell'armata. Si, che interessante. E poi dopo cacciatori nomadi. Che così poi dopo quando saremo contro gli Unni. Avremo qualche vantaggio. La situazione qua a Nord sta migliorando. Perché un'armata si è ritirata. E non so dove andate di preciso. Fatemi dare un'occhiata. Eccola qui. Dunque, dobbiamo fare attenzione a un eventuale attacco da Savaria. Però... Voglio... Attaccare Shisha. Se è possibile, con questa armata. Potrei fare un attacco notturno, però lo farò la prossima puntata. Prima di fare l'attacco anche, preferisco rimettere a posto le mie truppe. Quindi teniamo l'assedio. Perfetto. Dunque. Parliamo un po' dell'argomento giornaliero. Vedo che a molti di voi è piaciuto il fatto che io parlassi di qualche argomento a scelta. E intanto comunque che parlo, devo fare un'altra armata. Perché con l'armata lì, purtroppo, è stata distrutta. Dunque. Parliamo della cultura degli Ostrogoti. Gli Ostrogoti, nel loro regno... Parlo sempre del regno Ostrogoto. Non parlo di... Di come gli Ostrogoti... Gli Ostrogoti avevano... Che tipo di cultura avevano prima della formazione del regno. Parlo per forza del regno Ostrogoto. Quindi siamo in una specifica zona temporale. Che è più o meno sotto il regno di Teodorico. Circa 400. Avevo segnato scorsa volta 476 circa. Dunque. Dunque, dunque, dunque. Non ci fu proprio una fusione culturale tra i Romani e gli Ostrogoti. Per diversi motivi. Il primo è perché il regno Goto in Italia durò poco. Non durò moltissimo. Infatti, finì piuttosto in fretta dopo il regno di... L'ho detto la scorsa volta di Teodorico. Perché Teodato aveva comunque... Ha avuto dei rapporti negativi, insomma, con l'impero d'Oriente. Infatti, l'impero... Il regno Goto finirà con l'invasione d'Italia da parte di Belisario. Ma questo qua ne parleremo in un'altra puntata. Dunque. Principalmente. Non ci fu una fusione culturale. Per diversi motivi. Una, perché durò poco il regno. E due, perché... Principalmente... I Goti tentavano di preservare le istituzioni e anche i... In generale. Tutte le scelte che avevano fatto i Romani prima di loro. Quindi vogliono tenere una sorta di amministrazione romana. Perché ovviamente è una tattica utilizzata da molti imperi. Se consideriamo anche i Qing della Manciuria. Una volta che hanno conquistato... La Cina. Hanno preso le loro istituzioni. Perché ovviamente per accontentare le popolazioni appena conquistate. Oltretutto, anche se i nostri Ostrogoti erano ariani. Vedevano di buon occhio comunque... La religione cristiana latina. E in generale erano abbastanza tolleranti. Il Signore gliene di noi con la tua presenza oggi. Per questo motivo... I... Tanto vediamo se possiamo fare qualche... Matrimonio, no? Per questo motivo... I Goti... Preservarono la cultura romana. Attraverso... Certi tipi di architetture... E di sculture. Ma lo vedremo successivamente nel prossimo turno. Intanto dobbiamo assegnare un'abilità. Sì. E ok. Aiaia. Ci sono... C'è l'Italia che ci vuole attaccare. Nessun problema. Io sono pronto alla difesa. Intanto... Sono... Ci sono un po' di problemi. Qua ci sono delle armate... Che vogliono venire qui, in questa zona. A prendere Roma. Che non è un'ottima cosa. Ci sono i separatisti che vogliono tornare. Una cosa che mi conviene fare, forse adesso... E subito creare delle nuove forze. E fare un esercito ai mercenari, se è possibile. Meno con quelli che ci sono, i mercenari. Perfetto. Dunque. Il tipo di architettura... Principalmente goto... Fu molto particolare, perché... I goti, come ho detto... Non fecero una fusione culturale con i romani. Non ci fu una fusione. Ci fu solo... Ripresero i modelli romani. Infatti, se andate a Ravenna, tuttora. Ci sono molti, molti, molti edifici. Chiese, battisteri. Goti. Per nominarli un paio. Basiliche di Sant'Apollinare Nuovo. Cappella Arcivescovile. E soprattutto, il mausoleo di Teodorico. I primi due, la basilica e la cappella. Sono di stile romanico. Ma il mausoleo di Teodorico. Era di stile goto. Questa è una cosa abbastanza emblematica per far capire che non ci fu proprio una fusione culturale. Oltretutto, comunque, durante il regno goto, gli ostrogoti restaurarono molte chiese edifici romani. Quindi fu un vantaggio dalla parte, per noi italiani, che comunque abbiamo ancora adesso molti edifici, sia goti, sia romani dell'epoca, che sono stati restaurati e portati a noi come li trovavano una volta nel 1400 d.C. Ho fatto un po' di confusione, scusate. Dunque, per questa puntata è tutto. Votate, commentate. Ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao.